L'unica direzione in cui possiamo guardare per avere un'idea di cosa accade nel mondo e di chi siamo noi è data dall'informazione che ci arriva dalle orecchie e dagli occhi. Così c'è stato un preciso attacco alla coscienza umana. Per sconnetterci dal nostro sé multidimensionale e un altro attraverso i mass media e i programmi educativi. Per controllare tutte le informazioni che percepiamo attraverso occhi e orecchie così da farci identificare in una coscienza isolata ed incarnata con una percezione della realtà uguale a quella che loro vogliono darci. L'energia, la vibrazione che fa sì che la maggior parte della gente venga sconnessa è proprio la paura. Così vengono continuamente progettati, architettati avvenimenti che ci mantengono in una condizione di paura. L'11 settembre è un meraviglioso esempio. L'idea è anche spaventarci per farci stare zitti. Stare zitti, non increstare le onde, seguire il gregge. È più facile. Come potete vedere, è proprio quello che faccio io. La storia della società ha seguito un disegno ben calcolato. Io chiamo il network che orchestra gli eventi sul nostro pianeta gli illuminati persone che vengono iniziate, portate alla conoscenza di cose che la gente comune non conosce. Questa struttura fa parte di uno dei tanti compartimenti di questa piramide. Al vertice ci sono gli illuminati che si passano conoscenze molto avanzate attraverso le iniziazioni così che queste conoscenze arrivino solo a chi loro decidono. Allo stesso tempo fanno di tutto perché tali conoscenze non arrivino mai al pubblico. ecco perché gli imperi europei quando entravano dentro altre culture la prima cosa che colpivano erano gli sciamani e coloro che avevano tutte le antiche conoscenze della storia e della vita perché volevano proprio risucchiare queste conoscenze e metterle fuori circolazione e poter così dare alle popolazioni una falsa storia utile per loro. così nella società ci sono milioni e milioni di persone che danno al controllo il loro piccolo contributo giornaliero senza avere la minima idea che il loro contributo all'apparenza innocente si collega col contributo apparentemente altrettanto innocente di altri milioni di persone. Le uniche persone che conoscono il modo in cui tutto si interseca e collega sono le poche persone che stanno in cima al network. Quando ho scritto il libro E la verità vi renderà liberi? Studiavo il modo in cui il mondo è controllato ma avevo già chiaro che la cabina di controllo non poteva essere stata strutturata in cinque o cinquant'anni. Doveva essere qualcosa partito molto tempo prima. così ho cominciato ad andare molto molto indietro nel tempo per capire quando questa cospirazione è iniziata. molto facilmente sono risalito all'epoca delle crociate e continuando indietro nel tempo sono arrivato a parecchie migliaia di anni prima di Cristo e ancora non avevo trovato la vera origine di questa storia. Ciò che dicono molti professori universitari è che nei mondi antichi c'era gente molto primitiva rispetto all'oggi. Io ho una domanda da fare a questi professori. Chi ha costruito questo? Questa è la piramide di Giza che pesa sei milioni e mezzo di tonnellate. Ci sono abbastanza pietre nella piramide di Giza per costruire attorno alla Francia un muro alto tre metri alcune di queste pietre pesano 270 tonnellate è assurdo pensare che un popolo primitivo possa aver costruito questo. Questa era la conoscenza che apparteneva ai pochi che erano in cima. Questo è in Perù questo è 440 tonnellate e pesa 440 tonnellate teoricamente è un popolo primitivo ad aver costruito questo o almeno è quanto ci chiedono di credere. e posso immaginare due costruttori che fanno questa cosa che spostano queste pietre questo vogliono farci credere. Questo è un incredibile lavoro in pietra che si trova in molte di queste strutture antiche negli ultimi anni sono molti documentari televisivi che hanno mostrato come la stessa tecnica di costruzione venisse usata in tutto il mondo mentre la storia ufficiale ci dice che quelle società erano isolate fra di loro e non si erano mai incontrate la ragione che non si erano